Migranti e sicurezza le prime spine nel fianco del Viminale, guidato dall'ex prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, che ieri è stato in Irpinia, a Pietrastornina, sua terra d'origine. Nessuna guerra con la Francia sulla ricollocazione dei migranti, precise il ministro degli interni, ma sia chiaro che in Italia si entra soltanto legalmente. Poi nel suo intervento tranquillizza. Anche oggi ho sentito insulti nei miei confronti e verso il governo, che però non incidono. Noi andiamo avanti, tranquilli. Credo che questo sia il senso del fatto che qualcuno ha percepito che siamo sulla strada giusta. A differenza di qualche mio predecessore, dico a chi fa queste cose, che io vivo il beneficio di avere l'orgoglio e l'onore di far parte di un governo che è totalmente unito, monolitico, granitico e convinto di andare dritto per la sua strada e durare cinque anni per il servizio del Paese. Quindi se qualcuno immagina qualche schema che attraverso, capito, l'azzannare, il ventremollo del tecnico del governo, si sbaglia di grosso. Piantedosi raccoglie anche la richiesta di aiuto dei sindaci del territorio. Contro lo spopolamento assicura metteremo in campo azioni di programmazione, metteremo mano a dei disastri causati anche dalla rincorsa disperata alle risorse del PNRR per una nuova stagione di rinascita di queste zone a cui sono profondamente legato. Grazie. Grazie.